Buonasera a tutti, io sono Giuseppe Bottasini, ho 53 anni, abito per un terzo dalla nascita, sono sposato, stanno faccio i 25 anni di matrimonio, sono in notte, targento, e se ne voglio, ho due figli, Giorgio e Anna. Da ragazzo ero impegnato nella parrocchia, nella Caritas, i miei primi impegni tipo civile e civico sono stati del Consiglio d'amministrazione dell'Asilogorra, qua a Piontelo, e della Scuola di Formazione per Disabili a Mezzo, in carichi non retribuiti, per, così giusto per dire, l'occasione si è subito a soldi, ma in questo caso erano anime, in carichi non retribuiti. Sono arrivato alla politica molto tardi, rispetto a quella della mia generazione, perché sono arrivato alla politica dopo i 30 anni, più o meno quando è nata mia figlia, e ho deciso di farmi il tipo di città, avrei voluto per me, sostanzialmente. Ho iniziato a fare politica in una lista civica, la lista per Piontelo, e sono stato per nove anni Consigliere Comunale con questa lista, e ho anche ripoperato per due anni il ruolo di Assessore dell'ultima amministrazione. Quest'anno mi presento con due liste civiche, quindi siamo un movimento civico non riconoscibile a partiti, io non ho mai avuto una testa di partito, non è un bando, è un dato, un dato della mia vita, e quest'anno ci presentiamo con due liste civiche, dicevo, una è quella che è un minato, che molti di voi penso conoscono, che è la lista per Piontelo, nota perché sono oltre 30 anni che ho il suo territorio, in particolare sui temi della solidarietà sociale, della difesa dell'ambiente e della partecipazione dei cittadini. Quest'anno c'è una novità, corre con noi, insieme con noi, una seconda lista civica, di Piontelo, che fa un po' da compensazione del lungo corso della lista per Piontelo, perché è fatta da persone che hanno la loro primissima esperienza politica, che mettono a disposizione della città, o che non mettono a disposizione della città, le loro competenze professionali e l'impegno, chi nei comitanti di quartiere, chi nelle scuole, eccetera. Devo dire che quest'anno sono molto contento della formazione di queste due squadre, perché è stato un profondo cambiamento anche delle persone politiche, questo è importante perché persone nuove, giovani, portano idee nuove, mentre me da poco sopra i 40 anni e quasi 20 donne. Ecco, io, in concludere qua, noi ci presentiamo come un movimento civico orientato a centrosinistra, autonoma dei partiti e appena tornato al contributo di tutti i cittadini. Grazie. Abbiamo un punto magico, eh? Ok, questo è il punto magico. Allora, eh... No, non è questo, ecco. Abbiamo una cosa che... La prima cosa che... Qualunque di noi si dovrà dover fare come sindaco è nominare la giunta. No, sembra un passaggio scontato, ma non lo è. Io prego l'occasione per dire, ripetere, in quello che ho già detto in altro contesto, che per quello che mi riguarda la giunta sarà una giunta corta, fortissima, per quattro assessori, di cui almeno due donne. Questo lo dico adesso, lo dico prima, perché mi sembra giusto in un momento come questo sottolineare sia l'aspetto della rigenda, sia l'ansità di chi accetta di fare questo gioco, di farlo prima in fondo e farlo seriamente in maniera professionale, in maniera continuativa. Quindi non giunte lunghe, ma giunte corte. Il primo atto che è la prima dei tanti progetti che abbiamo in testa di fare, che dovrò fare per forza il primo giorno, per essere serio, è che la mia agenda come sindaco sarà su internet dal primo giorno. Cioè gli impegni che io avrò come sindaco dovranno essere noti a tutti i cittadini e qui leggo la cosa che non farò mai come sindaco è riuscire a mangiare da solo con i miei fornitori. Per questo non lo faccio. Per quello che riguarda, per quello che riguarda gli atti amministrativi, perché uno non fa il sindaco, per, quindi, deve fare l'ascoltatore, eccetera, ma lo fa per governare, è una città complicata e complessa e grande come Piotello. Il primo atto che necessariamente chiunque di noi dovrà fare è fare il bilancio, banalmente, perché non esulta il commissario e l'abbia approvato. Quindi avremo necessità di far subito il bilancio preventivo di corso, che è da lì, da giugno, a me l'anno. Ma se non facciamo quello, avremo perso un intero anno amministrativo per cui avranno governato gli uffici, invece che la politica, invece che voi. E quindi la prima cosa che dobbiamo fare, velocemente, sarà fare un bilancio preventivo, possibilmente partecipato a quegli distretti che avremo. L'ultima cosa che ci tengo a citare è la seguente, perché per noi è molto importante ed è fondamentale per il nostro programma. Noi abbiamo scritto un programma fatto di valori, linee guida, eccetera. E poi abbiamo messo dentro qualcosa come, iniziosamente, 140 obiettivi concreti realizzabili. Allora, nei primi giorni della nostra amministrazione dovremmo fare un grandissimo sforzo, un grandissimo anche atto di fiducia nel prendere queste 140 proposte, 140 promesse che abbiamo scritto, per vedere su www.contasinisingaco.it da più di una settimana, potete consultarlo, stamparlo, cercarlo. Noi ci impegniamo nei primi settimane del nostro ricarico a pianificare nei cinque anni tutti questi obiettivi e dare in mano agli uffici delle linee guida chiare di cosa devono fare e a voi cittadini di autorità di controllarci anno per anno, periodicamente, su che punto siamo arrivati, su quello che abbiamo promesso. Grazie. 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 di sera, con tutti i problemi naturalmente non seguiti. Ecco allora, pensiamo che i satelliti, i problemi dei satelliti vanno affrontati anzitutto con le persone che vi abitano, non parlando soluzioni da dare, perché non ce lo possiamo permettere, sono persone, quindi con i loro problemi, con le loro difficoltà, ma sono persone con le quali è assolutamente necessario interrogare per trovare delle soluzioni adatte a loro. Questo vuol dire riconosce anzitutto i ruoli importanti e fondamentali delle associazioni con il comitato di quartiere, con le associazioni che lavorano già nel territorio di satelliti penso al centro di cultura popolare e per lo conto, infatti c'era una grandissima realtà di persone che provengono da tutto il mondo, un rilancio della consulta interculturale che oggi fa fatica a lavorare. E' una priorità che nel nostro programma abbiamo messo. Il tema della formazione delle persone, bisogna formare alla legalità e al rispetto delle regole anche delle regole elementari, come la raccolta differenziata e poi si traduce in un danno economico per la collettività, se malfatta come viene malfatta in alcuni quartieri come il satellite di Alza Carivati. Legalità. Allora, il presidio del satellite è essenzialmente rafforzato come in tutta la città. Vi do un dato. Il satellite è il quartiere sul quale insistono dalle 6 alle 8 telecamere video-sperchiali. Sorveglianza. Come dire che se ha una telecamera erano 2.000 abitanti, è già un dato abbastanza come dire. E' un po' in pressione detto così. Quindi il problema non è evito sorvegliare i satelliti, ma è patrugliare per strada, avere i presidi della polizia locale vivo e non nell'intizio. Ecco, un controllo che va fatto è assolutamente sulle residenze e questo è un punto fondamentale. Noi dobbiamo cominciare a incrociare i dati delle residenze con i dati tributari, i dati grafici, per capire dove sono i punti dove avvengono i fenomeni di sovraffordamento, di vendita dei posti letto e dei venditi dei posti doccia. Perché questi sono punti fondamentali per rilanciare quel quartiere. Concludo, perché vedo che tempo si è assavolito e mi dispiace, noi abbiamo intenzione di lanciare un nuovo strumento che è l'agenzia pubblica della casa che dia supporto e sostegno a chi compra a casa, che sta per terra, ma per questione di strato, e che si è caricata anche di ricercare dei finanziamenti. Dicito un dato e concludo. Oggi, il maggior discorso è uscito un bando dell'Unione Europea gestito da ENA per l'Italia e 10 milioni di euro destinati a efficientemente energetico dei condomini a basso reddito economico, certamente in situazione dei satelliti. Queste situazioni, queste opportunità, non possiamo farcele sfuggire. Ultimissima cosa, che è lo spunto, ultimissima. Noi stiamo anche pensando, tra l'altro questa agenzia, di fare un'operazione un po' pericolosa e un po' particolare. Cioè, voglio dire, ma se in questo momento gli appartamenti vengono a Luria, all'asta giudiziaria, per 30-40 mila euro, è possibile che il pubblico, l'amministrazione pubblica, non possa, attraverso uno strumento che può essere un padre privato, a coincidirli per ricostruire la legalità nei supercondomini? Avere degli appartamenti che possono essere rimessi sul mercato dell'affitto, ristrutturati per introdurre isole di legalità all'interno dei supercondomini più messi male? Secondo noi si può fare e va fatto. Grazie. 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 Grazie a tutti. grazie. 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 Sì, buona. Sì, certo. No, sono buona io. Dovevo sapere in quanto adotte scuola, che cosa vorresti fare, se nasceresti le cose così come stanno, e se vorresti... Scuola. Dotte scuola, sì, visto che c'è, vorresti sapere un attimo come avrei tu, ecco, su questa temata. Sì, sì. Scusate, ci siamo, scendiamo. Pronto? Sì, ok, finalmente. Pronto a girare, eccolo qua, va bene. Allora, per quello che riguarda la scuola, rispondo sui miei permette di rispondere di più generale, rispondo sulla scuola della scuola, perfetto, grazie. Allora, noi abbiamo messo tra i primi punti del nostro programma, tra i primi valori del nostro programma, la formazione, perché crediamo che solo la formazione sia una delle principali idee per poter solidare la nostra città, per poter investire sui nuovi cittadini. E su questo abbiamo introdotto tutta una serie di impegni per quello che riguarda il finanziamento delle attività scolastiche, dove proprio vogliamo cambiare, non è l'impegno della scuola, anzi, come sulla scuola, anzi, vogliamo aumentarlo. Quello che vogliamo cambiare, però, è il tipo di partenariato che abbiamo con la scuola, e vi spiego cosa. Quello che vogliamo cambiare nella relazione con la scuola riguarda le modalità di finanziamento. Voi sapete che l'amministrazione comunale ogni anno eroga dei finanziamenti in parte strutturali, cioè edifici scolastici, mensa, queste voci naturalmente vanno mantenute, vanno conservate, perché sono sul fondamento del diritto allo studio. Vi sono poi una parte, diciamo, variabile, sulla quale l'amministrazione può, e di solito, eroga dei finanziamenti. Quello che dovremmo fare è su... Allora, dottore, ringrazio tutti voi che siete rimasti... Pronto, sì, ad ascoltarci. Vi ho detto cose intelligenti, cose non intelligenti, lo giudicherete voi il 25 di maggio. L'appello che io faccio a tutti i presenti, anche a quelli che hanno già deciso cosa votare, e nel caso di non votare noi, io posso dire solo questo. E noi nel nostro percorso abbiamo fatto una scelta che ci è costata, una scelta di discontinuità, una scelta di discontinuità rispetto alla nostra storia, una scelta che ci è costata in termini di fatica, in termini di relazioni che si sono interrotte, in alcuni casi si sono rotte. Ma noi abbiamo dato questo passaggio assolutamente fondamentale, non saltabile, non rinviabile. Abbiamo fatto questa scelta, a questo punto ci proponiamo per governare questa città, sapendo da un lato di aver dato un punto di discontinuità, e dall'altro di essere e di garantire quella necessaria preparazione, anche amministrativa, anche di esperienza, che è necessaria per governare una città complessa e bella come il mio tempo. Grazie.